Il fermo pesca dei ricci di mare è legge. Il Consiglio regionale è approvato con il voto favorevole e trasversale di tutti i presenti, compreso quello del governatore Emiliano, tranne uno. La legge è proposta dal capogruppo della Puglia Domani Paolo Pagliaro e precedentemente sottoscritta dalla quasi totalità dei colleghi di entrambi gli schieramenti. Una legge che punta a tutelare il riccio di mare consentendo un periodo di ripopolamento della specie e al contempo di tutela del fondale marino depaoperato dal prelievo massiccio degli ultimi anni. Vietato dunque per la durata del fermo il prelievo, la raccolta, la detenzione, il trasporto, lo sbarco e la commercializzazione degli esemplari e dei prodotti derivati. Il tutto varrà naturalmente per i ricci dei mari pugliesi. Una legge attesa e voluta dalle associazioni ambientaliste, dai pescatori stessi e dal mondo accademico. Un fermo indispensabile dunque per non perdere definitivamente questa specie ormai decimata e a rischio estinzione. La Puglia e il Salento avranno la possibilità di poter salvaguardare il riccio di mare al quale siamo tutti molto affezionati. Ma non solo, salvaguardiamo anche i fondali perché il riccio svolge un'azione importantissima per poter salvaguardare l'ecosistema. Tre anni sono il primo step perché poi proveremo anche dopo aver fatto una verifica sui risultati di questo fermo pesca di tre anni se eventualmente sarà necessario aumentare o meno. Sicuramente un altro aspetto importante è che il paradosso ha voluto anche per tutta una questione legata al bilancio e alle difficoltà nel riuscire a finanziare tutte le leggi in itinere che non ci fossero le risorse necessarie che avevamo chiesto e previsto nella proposta di legge per la sensibilizzazione, per il monitoraggio, per capire gli effetti di questo fermo pesca. E un altro aspetto importante è anche il ristoro ai pescatori autorizzati. Su questo abbiamo avuto le assicurazioni che con una nostra prossima proposta di legge si potrebbero trovare le risorse per farlo. Risorse che l'assessore all'agricoltura Donato Pentasuglia ha già spiegato di poter reperire tracciando la strada per farlo. Intanto siamo l'unica regione ad aver fatto dei bandi, ne facciamo uno nei prossimi 15 giorni che mettiamo a disposizione risorse importanti. In più la novità, come ho detto ai colleghi in aula, è il dato che abbiamo chiuso in conferenza Stato-Regioni, in Commissione Politica Agricola all'unanimità e riparto del FEAMPA. Aspettiamo il decreto del Ministro a giorni e possiamo riprogrammare quelle risorse rispetto ad attività che sono non solo i ristori ma anche un'attenzione ancora ulteriore che devo dire i pescatori hanno assoluto mettere in campo in quest'ultimo periodo facendo enormi sacrifici, quindi staremo al loro fianco. Via libera durante la seduta anche alla legge per lo sviluppo, la valorizzazione e la tutela dell'artigianato pugliese. Il provvedimento, composto da 28 articoli, nasce dall'esigenza di aggiornare il quadro normativo regionale a nove anni dall'entrata in vigore della legge, in considerazione delle mutate esigenze del settore. Nell'attuale contesto competitivo, la bottega artigiana non è solo il luogo in cui si producono oggetti di pregevole fattura mediante l'ausilio di tecniche tramandate di generazione in generazione ma è anche il luogo in cui vi sono ampi margini per l'innesto di elementi innovativi nelle tecniche impiegate nel processo produttivo. Per la prima fase di applicazione è previsto un limite massimo di spesa di 500.000 euro. L'artigianato, ha commentato l'assessore allo sviluppo economico Alessandro Tellinoci, proponente della legge, riveste in Puglia un ruolo di primaria importanza e questa legge permette anche di riconoscere il ruolo dell'artigianato artistico e tradizionale per i settori della cartapessa, delle luminarie e della ceramica. Nulla di fatto invece sull'eterna bagar su segretario d'aula. Sergio Clemente però ha rotto il silenzio rivolgendosi direttamente al governatore. Non mi ha mai chiamato in cinque anni che ho fatto parte delle sue civiche, ha detto annunciando già ricorso al TAR. Se ne riparlerà comunque nella prossima seduta.